Stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Sono passati 96 anni da quell'annuncio diventato storia e se oggi possiamo comunicare così facilmente, se è potuta nascere la radio e tutto il complesso sistema di comunicazione e trasmissione del segnale, lo dobbiamo alla straordinaria intuizione di un inventore italiano, famosissimo in tutto il mondo, Guglielmo Marconi. Allora stamattina abbiamo l'onore di avere con noi sua nipote che porta il suo stesso nome, Guglielmo Giovanelli Marconi, che ci racconterà la straordinaria vita di suo nonno. Buongiorno. Buongiorno. Io partirei però da tua nonna, perché ha scritto un libro, ecco, lo mio marito Guglielmo, un libro veramente interessante perché racconta delle cose che non si sanno di tuo nonno, anche la loro vita insieme da marito e moglie. Ed emerge insomma un ritratto di un uomo iperattivo e lei era talmente innamorata di tuo nonno che addirittura lo ha seguito per i mari, no? A vuoto di questo panfilo. Grande amore. È una storia bellissima. Prima però volevo accennare a questo bellissimo filmato che avete messo su Luri, perché Luri è l'antenato capostipite Larai. Luri nasce nel 24 e mio nonno Guglielmo Marconi diede un aiuto fondamentale per costruirla, perché tramite la Marconi Company di Londra diede l'assistenza tecnologica e finanziaria. Quindi quando nasce Luri nel 24 mio nonno diede un apporto fondamentale. Poi Luri cambierà nome nel 27, si chiamerà Eiyar e poi dopo la seconda guerra mondiale prenderà finalmente il nome di Rai. Ha inventato pure Rai, Guglielmo Marconi. Quindi c'è un albero genealogica da Rai, abbiamo fatto anche un albero genealogica da Rai. E quindi parlando di nonna, sì, un amore stupendo. Nonna era 26 anni più giovane di mio nonno, che era già un personaggione famosissimo. Si incontrano ad una festa sul yacht laboratorio di mio nonno, lo yacht Elettra, a Via Reggio, perché mio nonno Marconi non era uno scienziato tipico, era un eclettico. Non era il noiosone, topo di biblioteca, come alcune volte uno potrebbe pensare. Era uno che amava moltissimo la musica, era grande amico di Giacomo Puccini, amava la letteratura, era grande amico di Luigi Pirandello. Amava anche la musica classica, era amico di Enrico Caruso, per esempio, d'annunzio per la poesia. Quindi era un gruppo di amici eccellenti che resero l'Italia eccellente in quel periodo, che tra l'altro erano amici tra loro. Non c'era competizione, non c'era invidia, ognuno aveva il suo ruolo e il suo campo geniale e quindi si divertivano anche. E a una di queste feste, a Via Reggio, nel 1925, mia nonna, che aveva all'epoca 25 anni, tra l'altro una bellissima ragazza, nasceva da una famiglia nobile dei conti pezziscali, viene invitata a questa festa e incontra questo uomo pazzesco. Si innamorano e si sposano due anni dopo, quindi storia d'amore favolosa, tra l'altro nonna rimane vedova a 57 anni e io una volta gli chiesi, nonna, ma sei rimasta vedova giovane, perché non ti sei più avvicinata a un altro uomo? E lei mi risponde, dice, guarda, dopo aver conosciuto tuo nonno, tutti gli altri mi sembrava... Aveva ragione, un po' banale tutti gli altri. Un nonno che ha lottato tanto, perché la dimensione della radio era veramente futuribile. Assolutamente. Insomma, prima di farla comprendere plasticamente, ci è dovuto arrivare a questo esperimento della campanella, no? Assolutamente, è stata una vita dura, anche perché purtroppo lui in Italia non fu capito all'inizio. Lui inventa la radio, il primo esperimento di successo è del 1895. Lui aveva 21 anni, non laureato, anzi, quattro volte bocciato in fisica all'Università di Bologna, aveva tutto il mondo accademico contro, perché lo consideravano uno che si studiava da solo, autodidatta, e quindi c'era un po' di ostilità del mondo accademico. Finalmente, a 21 anni, dalla tenuta di Pontecchio, che oggi è Pontecchio Marconi, Sasso Marconi, in Cino Bologna, trasmette questo messaggio dalla finestra alla collina a due chilometri di stanza. E lì è la nascita della telegrafia Senza Fili, che è il nome storico della radio. E quindi va a Roma con la madre, viene ricevuto dal direttore del Ministero delle Poste, la marca, il quale dopo averlo incontrato scrive al ministro e gli dice guardi ho incontrato questo Marconi che mi sembra completamente matto, dovremmo rinchiuderlo alla Longara, che era un manicomio criminale all'epoca sul Lungotevere a Roma. Quindi la madre, per fortuna, che era irlandese, quindi passaporto britannico, lo porta a Londra, e lì invece gli inglesi capiscono subito l'importanza della radio, lo aiutano e lì fonda la prima compagnia multinazionale di radiocomunicazione, si chiamava appunto la Marconi Wireless and Telegraph Company nel 1897. Muglielmo, è straordinario come i tuoi nonni poi abbiano viaggiato a bordo di questo panfilo Elettra, addirittura per... Che poi danno il nome a mia madre, che poi viene chiamata Elettra dopo, dopo il panfilo, se non fa l'opposto, esatto. E leggendo le pagine del libro che ha scritto tua nonna, mi viene in mente, visto che tuo nonno aveva allestito proprio un laboratorio in questo panfilo, giravano nel mondo, ma lo fece anche per evitare spionaggio? Sicuramente sì, perché lui era molto geloso della sua opera, anche perché in quel momento c'erano altri scienziati che studiavano lo stesso argomento, c'era Alexander Popov in Russia, c'era il grande Nikola Tesla in Serbia, c'era Bron Lee in Francia, c'era Oliver Lodge in Inghilterra, però lui arrivò per primo e la cosa geniale che fece, oltre all'invenzione di radio, la brevettò per primo, perché voi sapete, c'è una legge internazionale che dice che l'inventore non è solo quello che inventa per primo, ma chi brevetta per primo. Quindi lui si principiò a Londra il 5 marzo 1896, pochi mesi dopo l'invenzione in Italia, e la brevetta subito all'ufficio dei brevetti. Perché è quello che dà la vera paternità dell'invenzione. 12 dicembre 1901, questo segnale radio deve attraversare l'Atlantico, dalla Cornovaia all'isola di Terranova, che succede, Guglielmo? Succede che quella è la sua grande sfida, perché i suoi critici, soprattutto la compagnia dei cavi, che era quella compagnia commerciale nemica della radio, perché finora tutta la comunicazione veniva attraverso i cavi sottomarini, quindi per la compagnia dei cavi internazionale fu un colpo devastante l'invenzione della radio, dissero, ah ma tanto Marconi ha creato una cosa molto limitata, che mai attraverserà un oceano, perché finirà dopo pochi chilometri. E lui disse no, la radio può andare oltre gli oceani, perché? Perché rimbalzerà dalla ionosfera sulla curvatura terrestre, e quindi può arrivare anche attraversando un oceano. Per quell'epoca era considerato impossibile. Il 12 dicembre del 1901, alle ore 12, riesce in queste imprese, da Poldiu, stazione radio in Cornovaglia, il messaggio verrà ricevuto a St. John Newfoundland in Canada. E quindi è il grande successo a radio, che vuol dire non ha limiti di nessun tipo. Ma poi c'è un'altra data importantissima, che è il 1929, perché su richiesta di Papa Pio XI, costruì la prima stazione radio del Vaticano, quella che poi è diventato Radio Vaticana. Alle 16.49 del 12 febbraio del 1931, il Papa pronunciò in latino il primo radiomessaggio che fu ascoltato in contemporanea, New York, Melbourne, tutto il mondo. Certo, tutto il mondo. Questa è una data veramente importante. Grazie a mia nonna, all'autrice del libro, a Maria Cristina Bezziscali, sposata a Marconi, perché la famiglia di mia nonna era molto legata alla famiglia Pacelli, al cardinale Pacelli, che all'epoca non era ancora Papa, era segretario di Stato, e Pacelli disse, guardi, sua santità Pio XI, che il Papa all'epoca era Pio XI, nel 1929, avrebbe bisogno di una radio per dare la benedizione ovunque. E quindi lui a Castelgandolfo si mette a lavorare tutto un lungo periodo a Castelgandolfo e crea finalmente la Radio Vaticana, che verrà inaugurata nel 1931. E quello è merito alle conoscenze di mia nonna. E quanto è stata importante la radio nella Seconda Guerra Mondiale? Certo. È nata un'amicizia anche molto importante con Churchill. A lui doveva molto all'Inghilterra, perché come ripeto, lo appoggiò, malgrado l'Italia, immediatamente. Però nonno rimase sempre un fiero italiano, anzi, quando gli inglesi e gli americani gli proposero la cittadinanza, sia inglese che americana, lui rifiutò. Dice no, io rimango italiano, infatti è morto. Nonostante che noi italiani lo volevano mettere alla lungara, al maricomio, e poi gli inglesi invece. Lui rifiutò i passaporti sia inglese e americano, e disse no, io muoio italiano, sono nato italiano. E questo è anche un gesto straordinario. E tra l'altro è un'altra grande cosa, lui amava molto la storia, è una passione che io ho in comune con lui, perché io ovviamente non sono né uno scienziato né un genio, però con nonno abbiamo in comune la passione, la grande passione per la storia, e tra l'altro... E infatti sei un grande affabulatore, ci stai facendo veramente rivivere, gustare la figura di tuo nonno. Beh, Guglielmo è storico, ma è anche principe, è anche principe romano. Infatti io ti volevo chiedere, Guglielmo, visto che in questo bel libro tuo nonno racconta anche degli incontri con la nobiltà europea, che cosa è rimasto? Dunque, la nobiltà di solito c'è un luogo comune, dicono che sono tutti quanti, diciamo, frivoli, eccetera, ma in quel periodo c'era una nobiltà anche molto illuminata, sia in Inghilterra, che in Italia, che in Francia, che era molto attenta alle invenzioni e alla scienza. Quindi, mio nonno poi, appunto, fu fatto marchese per i suoi meriti, eccetera, però i suoi contatti erano con i Doria Panfili, con i Corsini, con il Borghese, tutti i Pacelli, che danno un grande papa i Pacelli, erano i suoi grandi amici, esatto. Alla Chiesa Cattolica, fanno parte di questa nobiltà che non era affatto frivola. E Churchill, perché? Anzi, l'hanno molto sostenuto. E anche Winston Churchill, che era il cadetto del Duca di Molbero, era una persona attentissima alle invenzioni a radio, anzi, fu lui che aiutò molto mio nonno presso il governo inglese. Insomma, Lisa, ma se siamo qui al caffè di Rai 1, a parlare di libri, lo dobbiamo anche a Guglielmo Marconi, devo dirti, divertente, che da poco ho ricevuto la nomina di docente di storia presso l'Università Unimeyer di Milano. Quindi, finalmente potrò sviluppare la mia passione, la mia passione. Viva la storia che non è mai mancata al caffè di Rai 1 e grazie al tuo racconto che si è seducente. Grazie a Guglielmo di Melli Marconi per essere stato con noi e prima di salutarci vogliamo fare un omaggio alla radio, per gli appassionati della radio, perché il 16 ottobre 1965 sulle frequenze del secondo canale radiofonico della Rai debutta lo storico programma Bandiera Gialla con Gianni Boncompagni e Renzo Arbore e niente sarà più come prima. Sabato 16 ottobre va in onda la prima puntata della trasmissione radiofonica Bandiera Gialla dedicata alle novità mondiali della musica e destinata a un pubblico giovane. A condurla è il duo composto da Renzo Arbore e da Gianni Boncompagni che aveva proposto di chiamarla Sound. Ma la dirigenza Rai molto scettica sul successo futuro dei nuovi generi musicali preferisce il titolo Bandiera Gialla instaurando un parallelo tra la musica di tendenza proposta in trasmissione e il simbolo della quarantena per epidemia che è appunto la Bandiera Gialla. di San Dio